Il Beluga è un divano componibile nato per regalare momenti di massimo comfort e relax. La seduta è un elemento modulare che potete scegliere in tre misure differenti. Con la sua ampia gamma di elementi componibili, disponibili in varie misure, il Beluga può adattarsi a molti tipi di ambiente con la massima flessibilità, consentendo configurazioni completamente personalizzabili. Il fusto interno del divano è realizzato in legno massello di faggio e pannelli di multistrato di pioppo, una struttura di altissima qualità che garantisce resistenza e durabilità del prodotto. Un particolare studio è stato fatto sull'ergonomia della spagliera e sulla densità delle varie parti del divano. Le spagliere, le sedute e la parte superiore del bracciolo sono rivestiti con un morbido ed accogliente duvet in piuma d'occa naturale, certificata Cruelty Free. La parte posteriore delle spagliere e il lato svasato del bracciolo hanno superfici più lineari, un contrasto che ne esalta le forme. Il beluga è un divano modulare che presenta delle linee generose e rotonde, con ampi e comodi braccioli integrati sotto la spagliera, agganciati lateralmente alla seduta. Un incastro di volumi che simula un abbraccio tra i suoi principali componenti. La posizione arretrata delle zampe anteriori, che scompaiono alla vista, regala leggerezza al divano che sembra fluttuare come per incanto. Il divano è completamente sfoderabile ed è possibile scegliere varie tipologie di cucitura in base al tipo di rivestimento. La qualità Mantellassi è garanzia di un prodotto completamente made in Italy, fatto a mano da migliori artigiani e tappezzieri toscani. Visita il sito oppure viene a trovarci direttamente in fabbrica. Vi aspettiamo!